Silenzio stampa? Ma posso un'arancia? O no? Dai che... No dai, parti gli scherzi, che mi dici? Sei contento? Non sei contento? Allora, provo io a interpretare quello che... Io ti faccio le domande e ti dico anche le risposte. Allora, una vittoria... Sei deluso per il risultato di Johnny Edgar? Sì, è un po' deluso per il risultato di Johnny Edgar perché tutto il pacchetto andava bene ma Johnny ha fatto qualche errorino. No, cazzo, stai in tanto... stai in tanto difficilissima. Allora, invece, eh... De conto... No, adesso te che devi interpretare perché non vai avanti a analizzare Johnny Edgar? Purtroppo... Eh, perché non ci capisco che è troppo difficile. Guarda che se peggio la spinge, cioè... No, dai, dimmi qualcosa. Dimmi tu. E' incredibile! E' un mimo! Fami un segno! No, lo farei brutto! E' un mimo!